Sotto la tua protezione Sotto la tua protezione Sotto la tua protezione Il loro cuore alla fiducia Proteggi i medici Gli infermieri Personale sanitario I volontari che in questo periodo Di emergenza Sono in prima legna E mettono la loro vita a rischio Per salvare altre vite Accompagna la loro fatica E dona loro forza Bontà e salute Sì accanto a coloro Che notte e giorno assistono i malati Ai sacerdoti E alle persone consagrate Che con sollecitudine pastorale E impegno evangelico Cercano di aiutare E sostenere tutti Ave Maria Ave, 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 ave Maria In nome del Padre E del Figlio E del Espiritu Santo E del Figlio E del Egli A che carano Il nostro frattato E del Chińτι Grazie a tutti i nostri spettatori.